Questo è un momento molto speciale per Cerny Teer Theatre, festeggiamo i nostri dieci anni di attività, infatti era il 2005 quando per la prima volta in una piccola sala del comune di Elgin, nelle Highlands, noi organizzavamo il primo seminario su Samuel Beckett. Il concerto è uno studio che è stato fatto su Beckett, accompagnato dalle musiche del gruppo Newton e con Alan Alpenfeld e la sua compagnia Sweets portiamo in scena questo lavoro di ricerca. È uno studio, è un work in progress, quindi non è ancora il testo completo, questa produzione è una, noi l'abbiamo chiamata, a visual study on Samuel Beckett's words and music, parole e musica, proprio perché è il fulcro, la radio e la musica, il suono messi insieme. Il testo ha due entità, Joe che parla e musica invece che suona, suona dei concetti. Neaton è un gruppo di sperimentazione elettronica e quindi è anche un nuovo approccio alla composizione musicale per Beckett. La musica viene ricomposta pensando ai generi in cui siamo arrivati oggi e viene composta quasi anche sul momento. Loro prendono spunti dal luogo e dal pubblico e da che tipo di interazione c'è sul momento. Sarà un'esperienza molto, molto bella in scena Adele Ras, anche attrice belga ed è in lingua inglese ma adatto assolutamente al pubblico italiano. Io sono formata alla scuola del piccolo e quindi per me poterlo festeggiare qui questo compleanno è molto significativo e molto importante. Grazie a tutti.